La seconda commissione consigliare, presieduta da Gianfranco Chiacchieroni, ha tenuto le audizioni di associazioni e categorie sul documento triennale di indirizzo strategico per il turismo 2014-2016. Gli interventi hanno delineato una sostanziale condivisione del testo, sottolineando alcune criticità e avanzando delle proposte. In particolare, è stato detto che il documento triennale deve prevedere come elemento centrale quello della promozione integrata, che va migliorata all'organizzazione di eventi e manifestazioni così da sfruttarli al meglio per il turismo, che serve una comunicazione più attenta di quello che già esiste e una maggiore attenzione per allungare il periodo di permanenza dei turisti più che ai nuovi arrivi, pubblicando sui siti di tutte le strutture turistico-ricettive l'elenco dei vari eventi, manifestazioni storiche e culturali, spettacoli, fiere e sagre di tutto l'anno dell'Umbria. Al termine delle audizioni, il presidente Chiacchieroni ha spiegato che nella prossima seduta la Commissione cercherà di approvare il piano triennale del turismo, valutando il testo alla luce delle osservazioni fatte, così da portarlo in aula al più presto.